Ciao ragazzi sono Filo Guido, oggi siamo in una top 5, cioè questa è 5 tipologie di persone iniziamo il video Allora signore vorrei un riego di 700 euro sui mani Ora tu non avrò più virtù Regatti con noi, Ave Maria, piena di grazia, la madre è contenta, lui non ha bracciale Tu essere molto sputtivo, tu essere pedofilo, scronzo, tu essere profumo, tu essere profumo Ora io mi attacco albero, poi faccio bracciale Si mangia bene qua Centrale, centrale, aiuto, aiuto, aiuto Questa erano 5 tipologie di persone parte 2, ci saranno a parte 3, però vi chiedo stavolta Allora un appello Data 23 giugno 2018, riapri il canale Iscrivetevi, lasciate like, ci vediamo al prossimo video Ciao!